Pensiero del giorno. Mi diverto a creare una bella sorpresa per una persona speciale. Mentre condividiamo questo dono, per un momento proviamo un senso di stupore infantile. L'universo porta cose meravigliose anche a me. Sorprendi qualcuno. Così come a te piacciono le belle sorprese, anche gli altri gradiscono ricevere qualcosa di inaspettato. Progettare un dono simile è un atto d'amore. Ti lasci ispirare per provare la sorpresa più adatta. Dedichi del tempo a organizzarla e poi provi la gioia di condividerla con la persona che la riceve. Anche le sorprese improvvisate, come un complimento sincero o un'aspettata offerta di aiuto, sono inestimabili. Quando dai a un'altra persona, in verità dai anche a te stesso, perché tu e chi riceve siete una cosa sola. Inoltre, stai inviando energia nell'universo, segnalando che tu stesso ami le belle sorprese. La vita risponde di conseguenza consegnandoti meravigliose delizie, in un flusso abbondante di dare e ricevere. Oggi, goditi l'imprevisto sia in quello che dai, sia in quello che ricevi. Stai allerta e noto ogni cosa bella e inusuale. Le sorprese arrivano in molte forme.